Valentina, buongiorno. Buongiorno, arrivo. Buongiorno. Allora, cosa mi hai portato oggi? Ti ho portato una cosa in... Ah, giochiamo così? Eh, bam, interrogatorio, guardo la luce. Ti ho portato un super anteprima, una cosa bellissima, sapete? Che uscirà dopodomani, dopodomani in edicola. Esatto, dopodomani. Che è questa scommessa, che è stato Ridare Vita, una rivista che si chiama Città Milano. Quindi ci tenevo che tu la vedessi, perché lo dico veramente con... È una bellissima rivista, cioè ci sono parole, fotografie. È una rivista che nasce per raccontare, anzi rinasce per raccontare. Rinasce, certo. E quindi è dedicato questo primo numero a Emilio Tadlini e a Bergani. Sì. Andrea Micheli, tutti i nomi che insomma già conosciamo in qualche modo, ma che si sono rimessi in gioco in un momento che sappiamo tutti per l'editoria è ostico, cioè è difficile. E a me sembra bellissimo che qualcuno abbia detto no, dobbiamo ancora raccontare, dobbiamo ancora dare voce, dare voce, dare immagine di un certo tipo, di un certo livello, con una certa qualità, perché ne vale la pena. E questo primo numero racconta Milano sotto tantissimi aspetti. Dalla Milano da bere, la Milano by night, la Milano della moda, la Milano nuova, quella che è rinata, perché sappiamo che adesso è stata la coronata del place to be, no? A Milano. Certo. Alla Milano per nascosta, quella dei ras di quartiere, quella delle periferie che risorgono, o delle periferie comunque difficili dove però ci sono storie di speranza. E quindi mi viene da dire che una rivista ti mescola tante cose, tante facce, no? E ho partecipato anch'io, sono felice. E tu cosa hai raccontato di Milano? Io ho raccontato insieme a Giorgio Terruzzi e poi a Roberto Pesenti, ho due articoli, cioè due pezzi, ovviamente io ho fatto la parte fotografica, in uno ho raccontato Porta Venezia, intesa come Porta, cioè Porta Framondi, perché effettivamente Porta Venezia divide in qualche modo, divide e unisce, perché c'è una parte più popolare, multietnica, è una parte elegante, fatta di negozi alla moda, palazzi storici, meravigliosi, parco, e quindi abbiamo cercato proprio di raccontare questa dualità, questo binomio e questo confine non confine che si mescolano, che è continuamente tutti i giorni l'uno dentro l'altro, un'umanità varia. E' stato bello perché abbiamo trovato dalle botteghe storiche con persone che lavorano lì da 50 anni, no? al negozietto appena sordo, che è appunto di questo ragazzo, per esempio, etiope, cioè tal, 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 un piccolo mondo dentro la città di Milano, ecco, questo era il microcosmo, sì, certo. Esatto, quindi quello è il gioco da una parte. Certo, certo. E poi con presente siamo andati a raccontare il primo palazzo che l'ha visto in Guilino quando è arrivato a Milano e quando ha deciso di stabilirsi qua, che è una casa dell'inghiera, quindi la casa della vecchia Milano, siamo tornati molti anni dopo per vedere come era cambiata, è stato bello seguirlo, perché per lui è stata un'emozione, cioè non rientrava lì da moltissimi anni e quindi rivedere casa propria, ma completamente cambiata, lui mi ha detto, per esempio, tantissimi stranieri adesso abitano qui, no, mentre quando ero ragazzo io eravamo quasi tutti studenti, cioè è cambiato proprio il tessuto, no, ed è bello, è stato una, peraltro, insomma, ci siamo arrampiccati fin su e un pochino così... Io ho una proposta da fare, perché normalmente fotografia dell'abitazione non facciamo mai, sì, interna, interna, ma cioè con idea di documentare dove io ho abitato, bello, questo non lo fai quasi mai, no, dici vedere cos'è successo dopo, sì, poi, no, più che altro poi ricordarti, perché magari è qualcosa in particolare, ti ricordi, ma non ti ricordi esattamente com'era cucina, com'era soggiorno, com'era il... cioè, non ti ricordi è vero eh sì e questo, io suggerisco a tutti i miei amici di farlo, cioè, farlo anche stesso, perché anche vuoto, normalmente abbiamo qualche fotografia scattata interna, nell'interno dell'abitazione è vero, no, con gli amici, eccetera, ma idea di fotografare, cioè, architettura però ti posso dire una cosa, io l'ho fatto beh, tu lo fai, perché tu sei... no, no, ma l'ho fatto per me, cioè, non con l'idea... io a un certo punto, nella casa di mia nonna, poco prima, in realtà, che se ne andasse, non lo sapevo, però sai quando boh, senti che devi fare qualcosa, ero su un friuli e ho scattato delle fotografie col cavalletto, di tutti gli ambienti, perché mi sembrava di dover fermare un prima, cioè, sapevo che era un momento sospeso, qualcosa sarebbe cambiato e adesso io ho quelle foto sull'hard disk, non le ho fatte né per un servizio né per farle vedere, sono mie tue, sono tue, e io ringrazio Dio di averle fatte, perché era tutto immobile, ma era esattamente come era stato lasciato da mia nonna, già ora è cambiata in mente, quindi è vero che dici, cioè, mantenere la memoria... Sì, e quindi, se lo fai anche come il livello di lavoro, come un documentario, e diventa anche molto interessante, ma è interessante anche il livello personale e questo lavoro. Sì. L'altro giorno, cioè, parlavo con il mio carissimo amico, che è un fotografo mancato, perché voleva diventare fotografo, ma non è diventato fotografo. Lui, da oltre 30 anni, sai cosa fa? Quando trova, quello che fa, fototessera, entra, fa fototessera di sé, autoritratto nella cabina di fototessera. Ne ha una scatorone, perché 30 anni vuol dire ogni anno fai, non so, 20, 30, 40 fotografie, appena trovi. Ah sì, questo qui ero a Oslo, no, questo ero a Parigi, ho fatto autoritratto nella metropolitana. Bella questa memoria. Sì, bella idea. Bella memoria. Quando questo diventa dieci anni, vent'anni, trent'anni, quarant'anni, comincia ad avere un peso importante. Allora gli ho detto, fai un libro per te, è un libro, cioè proprio... È una narrazione della tua vita. Sì, una narrazione della tua vita che tu lasci a tua moglie e ai tuoi figli, no? Bella, come è cambiato, no? Sì, sì. E c'è un diario, perché io sono stato a Istanbul, sono stato qua, sono stato lì, e da lì nascono tutti frammenti di ricordi, esattamente, ma sai, io sono uscito da quella metropolitana e ho fatto questo e quell'altro. E guarda che sono tasselli anche molto importanti. Sai che cosa mi fa venire in mente? Perché hai detto questa parola autoritratto, no? Cioè, è interessante, il concetto di autoritratto è proprio interessante. Perché uno decide di ritrarsi, cosa vuole raccontare. Io che devo dire che ne ho pochissimi, non ne ho fatti tanti, però nel tempo ho fatto invece fotografie delle stanze dove ho dormito, sempre. io la faccio poco prima di lasciarla. Cioè, a me non mi interessa quando entro in un hotel e vivo. Bellissimo, cioè pulito. No, non mi interessa niente, quella roba non ha niente per me. Che sia una camera bellissima, un'autopaia non mi racconta. Perché tu non sei architetto. Mi amori e cosa fa? Tu levati, no? Devo documentare tutto. Ma io al contrario, praticamente, dopo che ci sono stata una notte, o quindici, o venti, quello il tempo che è, poco prima di andarmi, quindi ancora con le cose in giro, da, non so, l'altra macchina fotografica, il computer, i vestiti, scatto una foto, e io ho capito che alla fine, adesso che sono passati tanti anni e che guardo queste foto, quelli sono autoritratti. Lo sono, perché io sono quella roba lì. E tra l'altro, tu lasci, cioè questa cosa ci pensavo, in ogni stanza che abiti, tu lasci comunque una parte di te, no? Certo. Anche nel posto più impersonale del mondo, che è la stanza di hotel. Certo. Dove qualcuno un'ora dopo entrerà e cancellerà ogni traccia. È vero. Ma tu la traccia l'hai lasciata. E sei anche cambiato, perché i viaggi ti cambiano. Quindi quello è stato un luogo di passaggio della tua vita. E io leggo tutti i miei viaggi, che è abbastanza da pazza probabilmente, ma fa niente, leggo tutti i miei viaggi a una camera, a un luogo, a un posto dove ho in qualche modo riposato, nel senso che dopo il movimento, l'incontro, ho ritrovato me. Certo. E allora quella roba lì è un autoritratto. Certo. Forse, non so. A proposito di questo, domani mattina adesso tu parti. Sì. E dove vai? Domani vado a Floro. Sto provando a prendere la sbrinuncia norvegese, che chiaramente sarà sbagliata. Un po' come Janine, così. Faremo un insieme di interviste con le pronunce di Valentina Roma. E beh, però, quando tornerai, pronuncerai proprio come norvegese. Certo. Però ho anche imparato qualcosa lo so dire. Skull. Quando bisogna fare il brindisi. Quello l'ho imparato subito. La socialità prima di tutto. Prima ancora che ciao. No, allora vado appunto di nuovo nel nord, perché ormai a quanto pare... Mi piace fare meglio, eh? Cioè, puoi conservarti in bresca. Mi mancava. Va a far 40 gradi e io vado a 10. Ok. In realtà vado insieme al Norwegian Seafood Council. Ok. E vado a fare una piccola, come dire, una piccola anteprima. Vado a capire meglio un argomento di cui poi dovrò occuparmi. E quindi andiamo a vedere questa realtà dove c'è la pesca e questo sostenibile del salmone. Ah. E... Quindi mangerei... Mangerò salmone per quattro giorni, se supporterò la barca, perché poi è il vero problema. Ah. Eh sì, sarò con i pescatori. Travola. Questa sarà veramente la cosa... Vomiterai qualcosa, così poi... Mangiare la... Cioè, no, salmone, che saranno i dici. Io comunque ti voglio dire una cosa. Trovamela una che testa le macchine fotografiche. Allora, meno 35, più 40 e i mari del nord. Se resiste lì, resiste a tutto la macchina, o no? Però domani è un'altra nuova avventura. Bene. Allora, torniamo. Cioè, velocemente è questo... Questo numero. Sì. Allora, chi ha scritto, cioè, chi ha fotografato, a tuoi colleghi, puoi anche nominare... Cioè, velocemente? Allora, velocemente... Vabbè, c'è Carlo Orsi, che ho avuto fotografato. C'è Francesco Cito. Sì. Che è il tuo idolo. Che è il mio idolo e che è riconoscibilissimo. L'abbiamo visto prima, abbiamo dato subito la composizione pazzesca. Sì. Sì. Marco Intruini. Vedo qui Graziano Ferrari, Paolo Castaldi. Leggo perché anche io... Graziano Ferrari? Sì, fotografie di Graziano Ferrari e Marco Intruini. Ma sai che Graziano Ferrari è il mio carissimo maestro. Dai. Sì, cioè, io lo adoro. Vedi? Sì, sì, sì. Dopo allora guardiamo bene la cosa. Sì, adoro. Poi c'è, beh, Lorenzo De Simone. Sì. C'è Maurizio Gibovic. Che non conosco. Che neanche conoscevo. Ha fatto un servizio molto bello sulla... Sì, sì, sì. Paolo Sarpi e poi, beh, fra le firme hai Terruzzi, Barisoni, Aldo Nove, insomma, dei bei nomi. E prima guardavamo insieme il numero che hai qui. Questo qui... Ed è emozionante. Città Milano del 2001 che era l'ultimo numero. Con dentro? Sì. C'era Berengo. Sì. Scianna. Scianna, anche. Cito forse, abbiamo visto. Giuliano Lucas. Sì. Cioè, è bella questa cosa. C'è Gagli, che mi ha fatto anche la fotografia. Sì. Io bisogna farti un'altra foto per città. Questo non ci voglio ritratto. Milano, città aperta. Pensa come era in anteprima questa... Cioè, come era già avanti, comunque. Sì. Eh, cosa dici? Sì, sì. Era molto avanti. Eravamo nel 2001 e parlavamo di questo. Certo. Di assenza di muri e di assenza di confini. Sì. E vent'anni fa. E' un argomento che è assolutamente attuale. Cavolo, vent'anni fa Edì ancora c'è proprio... Io muovevo... Cioè, muovevi con una pannolino ancora. Adesso dovrei dire la mia età e una signora non dice mai. No, no, no. Però no. Cioè, vent'anni fa, edì ancora una bambina. Cavolo, in effetti guarda. Vediamo i nomi. Perengo. Ah, sì. Cazzani, c'era Michele Cazzani. C'è Cagni, Cito, De Viasi! De Viasi! De Viasi! Sì. Giorgio Rotti, Juliano Rucas, Andrea Michele, Orsi, ovviamente. Livia, signor. Sì. Cianna, Maurizio Totaro. E' bellissimo anche questo qui. Cioè, Carlo Orsi era fotoedit. Fotoedit. Ma anche adesso. Fotoedit. Sì. E' assistente fotoeditore Andrea Michele. Che è qui, infatti, ritroviamo. Sì, sì, sì. E Carlo Orsi sempre fotoeditore. Certo. No, è bella questa cosa che ritorna secondo me. Sì, è molto interessante. Allora, questo si troverà... Da lunedì in edicola. In edicola. Sì. Quanto costerà? Costerà, te lo dico, 25 euro. 25 euro. 20 anni fa costava 25 mila lire. Ah, vedi? Sì. Euro 15 quando lo indicavamo. Ah, è vero? Guarda che meraviglia. 15, 20 dollari yen. Yen. 2500 yen. Bisogna dirglielo che bisogna rifare anche. Sì, è vero. Bella questa cosa. Sì. Che? Io guardavo la meraviglia del tempo che passa. Guarda le due riviste. Il bianco come cambia. Sì. A me i segni del tempo piacciono. Certo. Cioè il nuovo e il vecchio. Le cose che continuano. Il continuum. è bello vederle in gioco. Pensa che questa rivista io ho comprato una decina. Ho mandato anche in Giappone. Dai. Ai miei genitori. Guardate, guardate che me l'hanno messo sulla... Sì. 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 Aveva anche la barba. Pensa che roba. Sì. Bene. Ok. Allora, ti ringraziamo tantissimo a te. Grazie a te. Cerchiamo di aiutare questo tipo di iniziativa interessante e culturale. E questa è veramente un'apertura di trasmettere anche la cultura al mondo. Sì. Cioè partendo da Milano. Partendo da Milano. Sì. È una rivista che proprio racconta. Quindi non hai la news. Sì. Che è importantissima. Ma qui c'è proprio il raccontare questa città, la sua dinamica, come ci si muove, le persone. Ci sono i volti, ci sono i luoghi. Certo. Ed è una cosa di cui abbiamo bisogno. Allora. Raccontare. Grazie Valentina. Grazie Aterio. Grazie. 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 Grazie.